1 giugno 2013, siamo a Tavernelli in direzione VILIA VOLINI DI AMARCIA! E che buona printa giunta tesola! Che aver fatto l'affetto del San Vitale! Vado via Marco! I UF! E adesso la bimbilla! Premuati i tavolini di Ocale Sceglie! I carabinieri no! I bastoni di Omoia! Tequila! VOLTA DI AMARCIA!